Se vuoi conoscere le nuove offerte di Nekyshop.com mi raccomando non perderti questo video Nel sito Nekyshop.com trovi tantissime offerte che sono valide per l'autunno 2021 Oggi ne parliamo insieme Iniziamo con le macchine per cucire Che sono attualmente in offerta Andiamo a parlare inizialmente della Neky K121A 21 punti di cucitura regolabili in lunghezza Asola automatica in un tempo E in fila ago automatico Ed è un'offerta limitata Per cui se ti serve una macchina robusta e non troppo costosa vai subito a vedere Un'altra macchina che puoi trovare nel sito Nekyshop.com è questa Neky K132A 32 punti di cucitura Sia in lunghezza e larghezza Asola automatica in un tempo in fila ago automatico Ed è in offerta 179 euro Quindi prezzo assolutamente abbordabilissimo E oltre ad essere una macchina robusta La trovo anche molto molto bella Proprio anche da esposizione Mi piace tantissimo questo modello e questo design Andiamo a vedere un'altra macchina per cucire che troviamo in offerta Ed è la Neky K408A Che ha 8 punti di cucitura preimpostati Asola automatica in 4 tempi Sgancio rapido del piedino Ed è in offerta 119,90 Sono prezzi abbordabilissimi E come ti ho sempre detto e consigliato Quando inizi a cucire E stai iniziando a cucire Non acquistare delle macchine da cucire troppo care Perché non sai ancora se il cucito ti piace E vorrai continuare questo bellissimo percorso Secondo il mio modesto parere Del cucito Sia saturare che creativo Quindi il mio consiglio che ti do sempre È quello di iniziare con delle macchine non troppo care Un'altra macchina per cucire che trovi nel sito nekyshop.com È questa che ti sto facendo vedere Neky K417A 17 punti di cucitura Regolazione lunghezza del punto Asola automatica in 4 tempi Ed è in offerta a 139,90 Queste sono le macchine Tra l'altro che sono quelle che mi piacciono veramente tantissimo A livello di design A parte il fatto che comunque Per chi inizia a cucire sono l'ideale Sono macchine meccaniche ovviamente Anche dal punto di vista dell'estetica Sono favolose Perché si sono rifatti a delle macchine antiche Quindi sono veramente stupende Adesso andiamo a vedere un'altra macchina in offerta Ed è la mia preferita dal punto di vista del design Parliamo della Neky K432A 32 punti di cucitura Regolazione lunghezza e larghezza dei punti In fila ago automatico In offerta a 149,90 Perché mi piace questa macchina? Semplicemente perché è blu A parte queste note scherzose Ovviamente perché il blu è uno dei miei colori preferiti dopo il rosa Andiamo avanti Andiamo a vedere un'ultima macchina Per cucire meccanica Ed è la Neky K431A 21 punti di cucitura regolabili In lunghezza e larghezza Tavolo a lunga base In dotazione E motore potenziato In offerta a 199,90 Il fatto di avere In offerta E tra l'altro compreso nel prezzo La lunga base Secondo me è una genialata Secondo me è molto molto utile Io non lo posseggo Non l'ho mai usata Con le macchine così personalmente Però è utilissimo Perché quando stiamo lavorando Soprattutto chi fa cucito sartoriale Abbiamo bisogno di poggiare il tessuto Alla nostra sinistra E a volte O non c'è spazio Oppure la stoffa tira E quindi il punto non viene perfetto Nel caso in cui noi abbiamo la possibilità di mettere questo A lunga base Le cuciture verranno veramente molto molto meglio E adesso andiamo a vedere delle macchine per cucire Che sono macchine elettroniche E sono veramente il top Parliamo della Neki NC 102D 200 punti 8 asole Un alfabeto Regolazione della velocità Display digitale Facilissimo da usare Il prezzo è 289 euro Ed è in offerta Ovviamente in questo caso Il prezzo sale Ma perché comunque ci sono delle differenze Tra la macchina meccanica E la macchina elettronica Ho intenzione di farti un video a breve Ti voglio parlare della differenza Della macchina meccanica E della macchina elettronica Perché mi rendo conto Di ricevere tantissimi messaggi In cui non si conosce la differenza Quindi magari parliamo sempre di macchine Neki Ma della differenza appunto Sostanziale Delle differenze Diciamo tra la macchina meccanica ed elettronica E anche la differenza tra le macchine meccaniche E tra di loro E le macchine elettroniche dall'altra Un'altra macchina Successiva macchina Quindi vediamo proprio che abbiamo Tantissime tantissime macchine in offerta E questa qui che vediamo insieme Ed è la Neki NC103D 316 punti 10 asole 2 alfabeti Regolazione della velocità Tavolo di prolunga in dotazione Al prezzo di 349 euro in offerta Quindi stiamo un pochettino aumentando di prezzo Abbiamo iniziato con i prezzi più bassi E iniziamo a salire di prezzo Ma il fatto di salire di prezzo Non è una cosa negativa Nel senso che tutto ha un prezzo Quindi è chiaro che Se una macchina per cucire Costa leggermente di più rispetto alla precedente Perché ti offre delle caratteristiche Delle potenzialità diverse rispetto alla precedente L'ultima macchina per cucina che andiamo a vedere oggi Che sono proprio le offerte È questa che ti mostro La Neki NC204D 439 punti 13 asole 3 alfabeti Rasa fila automatico Tavola allungabile in dotazione In offerta 449 euro Adesso andiamo a vedere l'altra offerta Non è finita qui No, 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 no Non è finita qui Andiamo a vedere le altre offerte I miei amati manichini Allora, questi manichini Sono in super offerta E sono i manichini che io adoro Sono bellissimi Sono dei manichini Magari se ti interessa Te ne posso parlare In un video a parte Dove ti parlo solo dei manichini Ma oggi voglio concentrarmi su questi Che sono in super offerta Il manichino a DJ FG 928 E a DJ FG 929 A 119 euro In promo Dal 28 obere fino al 3 dicembre Manichini fantastici Soprattutto se fai il cucito sartoriale E soprattutto se Lo fai per te stessa Lavori anche per altri E quindi hai la possibilità Di poter lavorare a casa Senza far venire il tuo cliente Sempre a casa tua In ogni momento E ci sono di due tipi Come ti ho fatto vedere prima Uno va da una taglia E dalla 40 Alla 46 E dalla 48 Alla 52 Valigia rigida Sono utilissime Perché comunque Evitano Che la macchina Si riempia di polvere Ovviamente E evitano anche Che la macchina Si rovini Magari con Umidità Cioè la preserva Comunque E abbiamo appunto In super offerta Per te La valigia rigida Al prezzo Di 29,90 Da 59,90 A 29,90 Allora per quanto riguarda Le taglie cuci Puoi trovare in offerta La mia taglia Quella che ho io Che è la Neki NL11C Con set di piedini A 449 euro Invece che 528 La Neki N183 Con rifiniture A 2, 3 o 4 fili E regolazioni adatte Ad ogni tipo di tessuto A 249 euro Quindi risparmi Il 29% Quindi da 349 A 249 La Neki N178 Rifiniture Con 3 o 4 fili E regolazioni adatte Ad ogni tipo di tessuto Ed è anche La possibilità Di avere il braccio libero Per cuciture tubolari A 199 euro Da 299 Quindi il 33% Sulla taglie cuci Ti ho fatto Dei video Che Continueranno Le lezioni A essere aggiunte A questo corso Di cucito Riguarda Delle taglie cuci Vai a guardare Ti lascio Comunque tutti i link Qui sotto Sia per andare a vedere Le offerte Dell'Anecchi Sia per quanto riguarda Le macchine per cucire Sia per quanto riguarda Il taglie cuci I manichini Quindi puoi andare Direttamente a cliccare E a guardare Se fanno per te E in ogni caso Se dovessi avere Domande Dubbi Perplessità Consigli Ti invito A scrivermi O nella mia email Cristiana Carpentieri Hotmail.com Oppure mi puoi contattare Nei vari social Come macchine per cucire Che fanno i ricami Abbiamo varie offerte Iniziamo con la prima La Necchi Logica NCH05AX Essential Macchina elettronica Combinata Cucito e ricamo Con software Incluso Per creare i tuoi disegni 120 punti 6 asole Rasa file elettronico Innovativa E controllo Wi-Fi Tramite app Della macchina Nella funzione ricamo Area ricamo 180x 120 990 euro Invece che 1640 Un'altra Macchina Per cucire Elettronica Per ricamo Abbiamo questa qui La Necchi Logica NCH01AX Essential Macchina elettronica Con funzioni ricamo E software Incluso Per creare i tuoi disegni 400 funzioni di cucitura 100 punti 3 alfabeti Da 97 caratteri 12 asole Rasa file elettronico Display touch E area ricamo Da 70-50 E 180x 120 890 euro Invece che 1540 In offerta Abbiamo altre Ricamatrici Che sono La Necchi Logica NCH5X Pro Macchina elettronica Combinata Cucito e ricamo Con software Professionale Incluso Per creare i tuoi disegni 120 punti 6 asole Rasa file elettronico Innovativo Controllo Wi-Fi Tramite app Della macchina Nella funzione ricamo E area ricamo 180x 120 1790 E il prezzo attuale Invece di 2590 Se vuoi veramente una macchina per ricamo Che ti permette di creare da te tramite il software Dei ricami proprio super personalizzati E vuoi farti veramente un bel regalo Che ti dura anche nel tempo Regalati questa macchina O fartela regalare E la Necchi Logica NCH1AX Pro Macchina elettronica Con funzione ricamo E software Incluso Per creare i tuoi disegni 400 funzioni di cucitura 100 punti Tra alfabeti Da 97 caratteri 12 asole Rasa file elettronico Display touch E area ricamo 70x50 E 180x120 1690 il prezzo Ma partiamo da 2490 Quindi un bello sconto Nei commenti Nel box informazioni Perché molte di voi Non sanno cosa è il box informazioni Quindi lascio tutto Anche nel primo commento Che metto in alto Tutti i link Quindi puoi andare comodamente A guardare Tutte le offerte A seconda di quello Che vorresti acquistare Io spero che questo video Ti sia stato utile Mi raccomando Se ti piace il mio canale Iscriviti al mio canale E metti un bel like E se hai bisogno di aiuto Io sono sempre disponibile Per aiuto Consigli E via dicendo Quindi non esitare A contattarmi A cristiana carpentieri Chiocciala Hotmail Punto com Ti invito Andrà a guardare Quindi online Nekyshop.com Ricco di grandissimi sconti Super pazzeschi E noi ci vediamo Al prossimo video Ma prima Vi voglio augurare Un buon cucito Sartoriale Creativo Ma soprattutto Terapeutico Ciao E alla prossima Ciao